salve stiamo per vedere l'unboxing di un pacchetto di qualcosa che noi probabilmente non sappiamo ancora cos'è però io lo so e se avete visto il video precedente forse lo sapete anche voi ebbene si era proprio quello che sospettavamo questo è un sacchettino un sacchettino bellissimo fucsia fucsia come dicono le mie cuginette della marca juju e qui ci sono tutti gli stimi pacchetti di qualcosa che noi ovviamente non sappiamo cosa sia beh non c'è più niente qui c'è la lettera per i blogger e qui ci sono due scatole saldatissime uno mannaggia evidentemente i produttori avevano paura che queste scatoline sarebbero scappate e due che macello oh che belle quindi vediamo di aprire anche queste ma come le hanno chiuse ah ecco ok le scatole delle juju sono un po' incomprensibili quindi andateci piano se non le volete strappare ma ma quanti sacchetti hanno messo siiii ah il sacchetto ho anche il doppio come si dice doppia fodera questa però è quella grande o quella piccola lo scopriremo solo vivendo come avevo aperto questa ma un altro sacchetto ah vedi questa è quella piccola ma sono troppo belle si vedono siiii guardate è bellissime questa entra qua dentro ok questo le proveremo io e mamma qui abbiamo 20.000 sacchetti la lettera e qua ci sono i fiorellini non so se si vedono i buchetti la scritta chuchu ok con loro ci rivedremo a maggio venite su vest94.com ciao